Con una lettera inviata al sindaco Franco Landella, il presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, ha formalizzato le sue dimissioni dopo il video nella notte di Capodanno che lo ha immortalato mentre spara dal balcone di casa sua davanti al figlio minorenne. Nel filmato il politico e vigile del fuoco ha sparato prima quattro colpi, esprimendosi in dialetto foggiano, fino a quando l'arma si è inceppata in sottofondo anche la voce di un bambino che lo ha esortato a continuare sino allo sparo di un quinto colpo. Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno destato particolare scalpore, queste immagini in realtà si vanno ad unire a quelle in cui Giacomo, il figlio di Iaccarino, spara nella stessa notte colpi di pistola giocattolo. Iaccarino Senior si è subito detto rammaricato per la lettura inverosimile che si è data ad un gesto irrilevante, aggiungendo come il ruolo istituzionale da lui ricoperto gli imponesse di chiedere scusa a tutti coloro i quali hanno avvertito fastidio pensando a qualcosa di diverso. Il legale del politico di Forza Italia ha anche spiegato come l'oggetto impugnato su quel balcone fosse una pistola salve della ditta Bruni SRL che riproduce le sembianze di una vera rivoltella, regolarmente però dotata di tappo rosso. Ma le scuse e le giustificazioni non sono bastate ad evitare le dimissioni arrivate con una lettera al sindaco Franco Landella, anche a seguito di una riunione con il capogruppo di maggioranza. Per il primo cittadino foggiano che ha annunciato le dimissioni di Iaccarino e chiesto atteggiamenti irresponsabili alla politica, si tratta comunque di un episodio increscioso. A seguito dell'ingrescioso video del Presidente del Consiglio, Leonardo Iaccarino, è stata convocata con urgenza una riunione di maggioranza, durante la quale lo stesso Iaccarino ci ha informati della sua volontà di dimettersi da Presidente del Consiglio. A giorni ci sarà un incontro con tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza per analizzare la questione, poiché la politica impone atteggiamenti responsabili ed educativi. Da ormai quattro giorni in Puglia si discute anche del caso di un bimbo di Taranto che ha festeggiato il Capodanno sparando da casa con una scacciacani. Altro video, altro scalpore e la conseguente denuncia per i genitori del minore.